Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e benvenuti nel mio canale. Dopo aver ricevuto diversi vostri messaggi, ho deciso di realizzare questo video che vi mostra come aprire passo passo un server dedicato su assetto corsa competizione. Innanzitutto voglio precisare che ad oggi la parte multiplayer del gioco non è al 100% completa, quindi non ci sarà possibile poter configurare tutti i parametri disponibili sul gioco, ma possiamo configurare il minimo indispensabile che ci permette di poter giocare tranquillamente con i nostri amici durante il tempo libero. Iniziamo subito. La prima cosa da fare è aprire Steam, andare in libreria e selezionare assetto corsa competizione. Cliccare col tasto destro, proprietà, file locali, sfoglia i file locali. La cartella che ci apre non è altro che il percorso di installazione del nostro gioco. La cartella di nostre indiesse è la cartella server. Una volta entrati sulla cartella server abbiamo davanti questi file. La prima cosa da fare è aprire questo file, readme, prendere questo link e aprirlo sul nostro browser web. Abbassiamo questa pagina perché ci tornerà utile successivamente. I file necessari per poter configurare correttamente il nostro server sono contenuti nella cartella CFG. Per poter modificare questi file è importante cambiare il programma di modifica, quindi selezioniamo un file, tasto destro, proprietà, apri con, selezioniamo dal nostro elenco il blocco note, confermiamo, applichiamo la modifica e ok. I file che andremo a modificare sono il file configurazione, il file event e il file setting. Se apriamo il primo file ci darà subito delle informazioni importantissime, quali le porte UDP e TCP che dovranno essere aperte sul nostro modem router e gli utenti massimi che potranno accedere al nostro server. Per poter aprire queste porte quindi dovremo aprire il nostro browser web, indicare l'indirizzo IP del nostro modem router, nel mio caso 192.168.1.1 e andare a indicare al mio modem router le porte UDP e TCP da aprire. Per chi non sapesse come aprire le porte sul proprio modem router, lascio il link di questo sito in descrizione, dovrà chiudere miliardi di marche e modelli di modem router, basterà cercare il vostro e seguire le istruzioni a video e potrete aprire le porte correttamente sul vostro dispositivo. Una volta aperte le porte sul nostro modem router, andremo a modificare il file setting. In questo file troviamo le principali informazioni da dare al nostro server, quale il nome, la password, gli slot disponibili per la modalità spettatore. Io tra virgolette qua andrò a mettere il nome del mio server che sarà simdrivers by Fabio. Lascerò senza password l'admin e metterò la password della mia stanza, del mio server, xxx, e salvo. Abbiamo configurato il primo file. Adesso andremo a modificare il file event. All'interno troviamo le prime informazioni basilari per quanto riguarda il tracciato e il tipo di evento. All'inizio, se ricordate, avevamo aperto un link sul nostro browser. Questo link contiene le informazioni per ogni singolo file che abbiamo modificato. Se andiamo sulla sezione event, troviamo una stringa molto più dettagliata di quella che abbiamo, in quanto contiene informazioni in più in merito alle sessioni di pratica, qualifica e gara. Quindi selezioniamo per intero questa stringa e l'andremo a sostituire a quella presente nel nostro blocco note. Una volta ingollata la stringa sul nostro file blocco note, cosa andremo a fare? Andremo a modificare quei parametri di nostro interesse. Ad esempio, io come tracciato non voglio Zolder, ma voglio Monza. Quindi basterà scrivere Monza. Come tipo di evento posso lasciare questo in quanto per adesso è completamente indifferente. Andrò a cambiare la temperatura ambiente da 26 a 30, per mio gusto. Pioggia lascio 0 e vorrò cambiare ovviamente l'orario di inizio. Io per esempio le pratiche non le voglio alle ore 9, ma le voglio ad esempio alle ore 15. Le qualifiche le voglio alle ore 18 e la gara la voglio alle ore 20. Possiamo modificare anche il moltiplicatore del tempo per ogni singola sessione. Io lascerò tutto così invariato. Come durata delle pratiche 7 minuti mi sta bene, le qualifiche 10 minuti, la gara la voglio ad esempio da 20 minuti. Basterà salvare e chiudere. Abbiamo configurato il nostro server. Per avviare il server cosa bisognerà fare? Basta andare un attimo un basso indietro sul server. Avremo questo logo, accserver.exe. Basterà avviarlo e si aprirà questo tipo di schermata. Il nostro server è aperto. Adesso andiamo a verificare se il server funziona. Una volta avviato il gioco ragazzi, richiamoci in multiplayer. Verrà fuori il lengo dei server disponibili. A noi basterà cercare quello da noi creato, nel mio caso SimDrivers. Ecco qua il server che ho creato. Basterà inserire la password. E cliccare su connettiti. Voilà, il server sta caricando. Perfetto, 7 minuti del tempo è imbostato. Guidiamo. Il server funziona. Ragazzi, il video termina qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina se lo volete rimanere aggiornati. E al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.